Oggi realizzeremo un amplificatore utilizzando un TDA 2005 che è un circuito integrato amplificatore era molto diffuso negli anni 90, veniva usato nell'autoradio, magari in qualche piccolo stereo è ancora in vendita, quindi è un amplificatore 10 più 10 watt oggi lo useremo in configurazione a ponte, quindi collegando le due uscite su un unico altoparlante per generare più potenza realizzeremo questo circuito direttamente con Kikad quindi andremo a realizzare un piccolo stampato perché possiamo scopiazzare il circuito di base dal datasheet del componente il circuito poi lo andremo a realizzare con PCBWay che ringrazio perché è lo sponsor di questi due video quindi il primo in cui disegneremo lo schema e poi il prossimo in cui traceremo le piste e poi andremo a realizzarlo proprio con loro PCBWay è un produttore di circuiti stampati con base in Cina, lo utilizzo da molti anni, molto affidabile sono rapidi, precisi e i prodotti sono di ottima qualità iniziamo subito oggi vi propongo di progettare anzi perché progettare e costruire un amplificatore utilizzando un chip integrato, il TDA 2005 non è un chip molto nuovo, insomma è in giro da parecchio tempo è quello che ho usato per costruire il mio primo stereo quando ero un giovincello è un chip che può fornire 10 più 10 watt quindi è un amplificatore stereo, veniva usato sull'autoradio si può usare combinando le uscite per andare a generare 20 watt adesso andate a scaricarvi il datasheet così potete vedere le informazioni ve lo poi metto anche linkato in modo che potete trovarlo con comodità se voi lo scorrete trovate tutte le caratteristiche e viene proposto uno schema in cui come vedete è un amplificatore che ha due moduli vengono indicati come se fossero delle operazionali vengono collegati insieme per andare a pilotare un singolo ottoparlante con ben 20 watt quindi diciamo si sente si fa sentire e va bene per amplificare appunto dei suoni in modo abbastanza deciso con pochissimi componenti come vedete basta proprio una manciata di resistore e condensatore andiamo a disegnarlo con KeyCAD e poi faremo lo stampato creiamo un nuovo progetto, l'ho chiamato TDA 2005 col nostro KeyCAD abbiamo lo schema e il PCB apriamo lo schema e iniziamo qua a disegnare il nostro amplificatore dovreste già ormai essere abbastanza bravi con KeyCAD allora iniziamo ad aggiungere i componenti premo il tasto A carichiamo tutti i simboli andiamo a cercare il TDA 2005 che dovrebbe essere già presente quindi gli amplificatori audio è suddiviso in tre unità le andiamo ad aggiungere tutte abbiamo la prima poi premo A aggiungiamo la seconda e la terza unità come vedrete è l'alimentazione che andiamo a mettere qui in parte andiamo un pochino in modo che si veda meglio iniziamo a disporre i nostri componenti magari non sarà molto ordinato perché diciamo a noi interessa poi arrivare a produrre il circuito stampato andiamo ad aggiungere tutta una serie di condensatori e resistori allora sempre premendo A apriamo R seguendo lo schema che avevamo dobbiamo aggiungere sulla uscita qui un certo numero di resistenze faccio A invio e aggiungo un'altra poi vediamo un'altra ancora quindi ho ben sette resistori quindi ne abbiamo tre che metteremo qua sull'uscita aggiungiamo le altre quindi ce ne serve una da mettere qui un'altra che metteremo qui sotto poi per l'alimentazione abbiamo il pin 3 qui viene collegato direttamente un condensatore in molti schemi che troviamo su internet invece viene portata la tensione tramite un resistore da un centinaio di K quindi useremo questo sistema anche noi quindi vi consiglio di tenerlo sotto mano adesso lo continuerò a fare avanti e indietro ma procederò direttamente con il disegno quindi aggiungiamo un po' di resistori ne aggiungiamo un altro qui abbiamo detto sull'alimentazione condensatori A metto C quindi non polarizzati ne avremo uno che mettiamo qua nei pressi dell'alimentazione e poi ne abbiamo sicuramente sull'uscita lo inizio a mettere qui poi li sistemiamo un altro sull'altro canale che poi uniremo verso l'uscita abbiamo poi un po' di elettrolitici quindi faccio A CP e andiamo ad aggiungere un po' di condensatori elettrolitici alcuni li possiamo già girare vengono collegati poi agli ingressi quindi possiamo già metterlo nella posizione corretta ne abbiamo un altro qui sull'altro ingresso primo R per ruotarli al volo ne abbiamo uno uno che mettiamo qui sotto poi li sistemiamo ce ne serve un altro qua per l'alimentazione quello dell'ingresso l'abbiamo messo ce ne serve uno qua per fare una specie di retroazione e un altro che mettiamo qui adesso li andiamo ad aggiustare ci serviranno un po' di morsetti quindi vado a cercare X02 che sono connettori generici vedete X02 abbiamo maschi e femmine avremo dei terminali con vite quindi cerco il screw terminal ce ne servirà uno per fornire l'alimentazione lo metto qua poi avremo gli ingressi quindi ne aggiungo un altro per andare a collegare il segnale d'ingresso e un altro per collegare l'uscita qui applicheremo una cassa dovrei averla da 8 ohm ora con un po' di pazienza aggiustiamo il tutto premo ESC o seleziono il cursorino qui e andiamo a spostare e muovere un po' gli elementi per cercare di dare una forma al nostro circuito quindi abbiamo questo ingresso di questo modulo questo qui lo andiamo a collegare a GND quindi perché lo faremo funzionare in bridge quindi avremo il segnale arriva su tutte e due e funziona in controfase vanno a pilotare l'altoparlante in uscita dandogli il doppio della potenza questo ho detto in breve questo connessatore ha un valore di 100 micro glielo possiamo anche scrivere man mano che utilizziamo così poi sono già a posto quindi lo spostiamo lo ruoto va collegato al pin set quindi lo mettiamo qua vicino al pin set sotto abbiamo questi resistori che vanno a creare una specie di partitore ne abbiamo ben tre collegati in questo modo poi l'ultimo va a finire su GND quindi con pazienza adesso andiamo a ricostruirci il nostro schema elettrico questo resistore 1R da 1 Ohm quindi scrivo 1R poi qui ne abbiamo altri due con un valore molto piccolo è 12R perché sono 12 Ohm ne abbiamo due da 12 e poi qui ne abbiamo caso di fare un valore molto importante dopo aver guardato un po' di questo quindi questo bene o male è lo schema abbiamo quasi completato manca questo collegamento dovremmo andare a collegare questo punto qua qui in mezzo con questa parte qua sotto è un po brutto dovrei far girare un filo tutto in giro usiamo una label quindi prendo la A la trovate qua a destra vado a beccare questo punto qui e la vado a mettere qui la chiamiamo A e aggiungiamo qui la label non è molto chiaro però spero si capisca altrimenti se volete vederla meglio usate una label globale che ha lo stesso funzionamento solo che la label globale è visibile anche tra più fogli quindi la chiamo A qua vedete che si vede molto meglio la metto un pochino fuori e la collego con un filo dall'altra parte andiamo qui sotto e anche qua aggiungo un'altra label sempre globale e deve avere lo stesso nome quindi A maiuscolo do ok la ruoto e la collego qua in questo modo poi risulteranno collegati qua vedo che c'è un problema perché non si sono collegati bene i nodi ho sbagliato io a collegarmi allora provo a togliere questi link e li rifacciamo con un po' di pazienza non è chiaro dove vanno agganciati dobbiamo beccare il punto giusto che dovrebbe essere qua ok vedete che si crea il nodo quindi qua è corretto purtroppo hanno usato sto sistema che non è il massimo della vita non è per nulla chiaro ok anche su ground adesso dovrebbe essere a posto quindi siamo a posto con i componenti e lo schema andiamo a fare l'assegnazione la notazione andiamo ok tutti i componenti hanno preso la loro referenza facciamo il controllo con la cucinella facciamo run ci saranno dei problemi ovviamente perché ci sono i power e non li abbiamo dichiarati quindi chiudo e vado ad aggiungere i flag power pwr power flag eccolo qua ne aggiungo uno sul lato 12 volt in modo che sia collegato sulla stessa linea del 12 volt e ne metto un altro sul ground quindi salvo facciamo il check e ora siamo a posto possiamo passare all'associazione delle footprint dobbiamo scegliere in modo corretto i vari componenti quindi qui abbiamo condensatore da 100 nano questi sono condensatori di solito tht e andiamo a dargli dei valori conviene magari misurare il componente poi scegliere quello più opportuno controllate sempre la footprint cliccando sulla questo iconcina con la lente per associarli quelle corrette ed essere sicuri qui abbiamo dei condensatori assiali elettrolitici ma questi sono da 2.2 quindi sono abbastanza piccoli possiamo usare questi il c4 non l'abbiamo associato quindi salviamo tutto ok cerchiamo il c4 qui non abbiamo dato valore e lo correggiamo così che poi è più facile quindi riusciamo a capire anche quando lo andiamo a montare eccolo qua c'è scritto cp allora gli andiamo a mettere secondo lo schema il datasheet è un 10 micro riapriamo eccolo qua lo troviamo 10 micro ma possiamo aiutarci con questi quindi sarà comunque sempre una dimensione tipo a 2.2 quindi questo qua era sulla posizione 109 uso ancora questo diametro 5 passo tra i terminali di 2.5 questi sono da 220 quindi saranno un pochino più grandi andiamo a prendere non so per esempio un 350 questi sono da 100 micro usiamo sempre queste dimensioni dovrebbero andare bene c9 è un 100 nanofarad quindi possiamo prendere come questo qua abbiamo preso l'87 quindi qua clicchiamo su posizione 87 è un capacito cdisc va bene e c10 uguale poi scritto i terminal sono quindi dei terminal block mettiamo passo 5.08 che è quello che viene usato di solito ne abbiamo vari vediamo questo fenix come esce va bene sono quelli a vite verdi di solito quindi andiamo a utilizzare questo lo usiamo per tutte e tre i nostri connettori poi abbiamo le resistenze togliamo 508 togliamo il filtro che troviamo qua e andiamo a cercare la libreria resistor tht filtriamo anche per la libreria per ridurre un po' andiamo a cercare la resistenza adatta dobbiamo prendere quelle orizzontali quindi forse queste qua sono meglio hanno il passo da 10 mm la verso un pochino meglio quindi usiamo queste mettiamo la stessa per tutti probabilmente bisognerà poi scegliere magari più grande perché alcune di queste magari ci passa dentro un po' di corrente e se voi vedete qua tipo queste che sono messe le danno come power dovrebbe avere una forma un pochino più grande quindi lasciamo queste qua verifichiamo il tda 2005 che è il package a ok il package che abbiamo scelto noi è il package indicato sul datasheet quindi quello standard di questo componente facciamo applica salva diamo ok esportiamo la netlist chiamiamola tda 2005 mono e possiamo finalmente chiudere il nostro schermo bene per oggi tutto abbiamo tracciato le piste del nostro schema elettrico e associato le footprint siamo stati fortunati abbiamo già trovato tutte le parti e quindi non abbiamo dovuto fare giri strani avete anche approfittato per ripassare un po' chicca di vederlo applicato a un progetto reale bene ringrazio ancora PCBWay per aver sponsorizzato questo video e quindi avermi offerto la realizzazione delle basette vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao